cari ragazzi siamo qui a filmare cosa stiamo producendo per l'evento c'è Alessandro che è impegnatissimo, ha perfino i guanti quindi rendetevi conto dell'impegno e della profusione che sta dedicando per questo cabinato che avrete già intuito sicuramente di cosa si tratta perché dalle side art che si vedono è molto semplice da comprendere però posso dirvi che funziona e possiamo già dire che sarà presente sarà presente ha fatto perfino funzionare i neon vediamo accensione preventiva dobbiamo stare lontani oppure possiamo due spine devo fare sì devo aggiustare la rizzazione qua adesso per farne una sola eccolo il neo è partito quello va andiamo a vedere guardate ancora ho messo in test aspetta è in test è in test il test funziona arriva arriva andiamo a sistemare le casse le casse da sistemare ma come vedete funziona alla grande uno dei giochi più ricercati del momento o sbaglio è un bel pezzo da collezione da tenere in casa è fantastico perché ha delle luci veramente belle solamente l'illuminazione che vedete qui al buio è una cosa fantastica si dovrebbe accendere anche il si devo guardare le lampadine qua dentro ancora bene e invece il nostro Andrea cosa sta producendo? non posso dirlo segreto segreto pulizia sta frasando esatto ciao ragazzi ecco qua questo che è il lavoro di oggi ecco il lavoro di oggi di Andrea molto di concetto io invece oggi sono qui solo per sistemare questo grandissimo cabinato che ci ha accompagnato nelle domeniche in sala giochi vediamo se ve lo ricordate dal portiere che era qui fantastico si tratta di Messico 86 stiamo rifacendo il control panel perché era stato giammato quindi aveva non so quanti buchi e quindi adesso dovremmo tappare un po' tutto quanto ma soprattutto non sappiamo se la scheda che ci è stata data funziona se qualcuno magari ha qualche notizia perché non abbiamo trovato nulla in giro a noi sembra che manchi un pezzo qua sopra se sapete qualcosa volentieri però veramente stiamo cercando notizie vero Andrea e noi le troviamo eh ma ci riusciremo ci riusciremo abbiamo i nostri canali abbiamo i nostri canali Stefano ne aveva una Stefano se ci senti contattaci che so che tu avevi un Messico 86 fammi sapere se erano due le schede o una sola funziona? eh dai siamo un buon punto siamo un buon punto bene allora per l'evento di novembre quelli che il videogiochi ci sarà anche il Tron notizie in anteprima dovrebbe andare Andre in là adesso cosa vuol dire la mia? alla tua qua sistemazione di un pong con all'interno perfetto televisore bianco e nero spinga spinga bello bello anni settanta bello purtroppo il trasportatore ce l'ha spezzato in due e stiamo cercando di ripristinarlo grazie a Milicab e Andrea i due Andrea i due Andrea i due Andrea questi qua non mi ricordo sì sì erano quelli 72 73 74 pensate pong William eccola qua la scheda scheda del pong cos'ha un 3k di non ho idea che generoso 0k che generoso Alessandro dice 0k comunque è un lavoro fantastico risistemare questo veramente era come era messo quando è arrivato vi faremo vedere le foto vi faremo vedere le foto potresti rimanere speriamo beh Mili ha detto che dovremmo farcele per per novembre quindi se lo dice Mili vuol dire che speriamo speriamo ce la facciamo dai bene alla prossima